E' sbarcato al porto di Olbia con 7 chili di cocaina purissima, nascosti nella sua auto, ma i militari della Guardia di Finanza lo hanno bloccato con l'impiego dell'unità cinofila. Il vettore, un giovane 27enne di origine albanese, è stato arrestato con l'accusa di traffico di sostanze stupefacenti e trasferito immediatamente nel carcere di Nukis dall'autorità giudiziaria di Tempio Pausania. Il carico di cocaina, diviso in sette panetti da un chilo ciascuno, era stato nascosto nel vano motore e sotto l'airbag del lato passeggero. Secondo la valutazione dei militari, la droga, se immessa sul mercato, avrebbe fruttato circa un milione di euro. L'attività si inquadra nel dispositivo permanente di contrasto ai traffici illeciti, coordinati dal comando provinciale di Sassari, che interessa i principali punti di accesso del nord Sardegna.